Benvenuti in questo video, sono Leo Sear e oggi parleremo di qualcosa che negli ultimi anni sta spopolando lungo le nostre coste. Proprio così, sto parlando della tavola Sub Cruise prodotta da Blue & Fin. In particolare questo modello è largo 77 cm ed ha una lunghezza di 3,27 m. Ebbene sì, sta tutta qui dentro, questo perché è una tavola gonfiabile ed è perfetta per la mobilità. Ma andiamo a vedere come si presenta. Al suo interno troviamo un comodo zaino per il trasporto. Una pagaia componibile in tre pezzi e dotata di doppie estremità. E' un seggiolino, questo perché la tavola può essere utilizzata anche come kayak. Una pompa con funzione doppia azione e singola azione. Doppia azione per pressioni più modeste, singola azione per ultimare il gonfiaggio. La pressione di gonfiaggio indicata è dai 0,8 bar fino a 1 bar. Un comodo attacco a GoPro per firmare il tutto. L'importantissimo leash per collegare la tavola alla vostra caviglia, in modo tale nel caso di caduta di rimanere sempre collegati e non perdere la tavola. Manual di istruzione. Indispensabile kit di riparazione. Naturalmente le pinne. Ed infine abbiamo la tavola. Dotata di pinna mobile e due fisse. Con parapinna per il trasporto. Valvola di gonfiaggio. Maniglia per il trasporto. E un supporto elastico. Se si vuole portare qualcosa con sé, come borse, scarpe, non ci resta che provarla. Non ci resta che provosti. Anche se vuole portare l'unica immissione. Calpitale. Judici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La possibilità di trasformare questa tavola in kayak la rende davvero unica rispetto ad altre sul mercato, si è dimostrata solita e robusta. In definitiva è un'ottima tavola sia per esperti che per principianti. Insomma, non mi resta che augurarvi zaino in spalla e buon'onda.